Caterina Balivo rubacuori. Nel corso della puntata di Detto Fatto in Onda oggi pomeriggio, Giovanni Ciacci, capo tutor del programma, ha lanciato lo scoop. Caterina è l'unica ad aver detto no a un famoso playboy. E la conduttrice ha risposto con una risata sibillina. Ecco com'è andata. Durante la rubrica di Jojo si parla di famosi playboy ed è lì che il costumista ed ex concorrente di Ballando con le stelle lancia la bomba, per essere playboy devi essere molto ricco, dice, e quello che ha corteggiato Caterina lo è veramente. E la conduttrice ribatte ironica, ora però è vecchiarello. Non è tutto. Ciacci aggiunge anche un altro particolare, ha corteggiato anche Naomi Campbell. Il nome non esce fuori, ma tra i fan c'è chi ipotizza si possa trattare di Flavio Briatore. Che sia proprio lui il famoso playboy che ha ricevuto il 2D picche da Caterina Balivo. Staremo a vedere. Siamo pronti per le prime spedizioni qui. Si è appena conclusa la prima asta realizzata con chiocciola e by sottolineatura it e non posso che dirvi grazie, grazie ancora grazie per l'affetto e la generosità dimostrata. Avere la vostra solidarietà mi fa sentire ancora di più la vostra vicinanza. Un grazie speciale soprattutto dalla Fondazione Cancelletto I Mesh Non Lus che ha bisogno costante di tutti noi. Ora però non ci fermiamo. Partiamo subito con una nuova asta, il link lo trovate su Instastore se noi ci vediamo più tardi. Cancelletto Caterina Balivo Cancelletto Caterinos Ecos Un post condiviso da Caterina Balivo Chiocciola Caterina Balivo, in data, MAG 30, 2018 at 2 e 52 PDT Copyright riproduzione riservata Mercoledì 30 maggio 2018, ultimo aggiornamento, 19 e 14 Mercoledì 30 maggio 2018, ultimo aggiornamento, 19 e 14